Lui quando è arrivata la vicenda Salvini-Papete pieni poteri disse dobbiamo andare alle elezioni. Ecco, se avessimo fatto le elezioni nel momento in cui Calenda con il suo straordinario acume politico diceva che bisognava andare, che si dovesse, che bisognasse andare alle elezioni, se avessimo fatto le elezioni in quel momento, sa cosa sarebbe accaduto? Il Covid e la guerra russa-Ucraina l'avrebbe gestito un governo guidato da Matteo Salvini premier e Giorgia Meloni vice premier. Quando io ho aperto la crisi contro Conte per portare Draghi ho ancora i titoli del mio amico Carlo che dice irresponsabile aprire la crisi. Allora va tutto bene, nessuna polemica, ognuno fa la sua strada. Poi alla fine la politica la vedi e la misuri sulla base non soltanto della capacità di dare delle risposte tecniche ma dal fiuto l'intelligenza, la capacità tattica di stare in campo. E lo vedremo. Gennaio-febbraio sarà il momento in cui si decide.